Speravamo che dopo la pandemia i numeri fossero migliori, sono migliorati leggermente, però purtroppo ancora si parla di 160 nuclei familiari pari a circa 500 persone. Sono italiani e stranieri, sono aretini e non aretini, purtroppo sono tutte persone che si trovano in una situazione di estrema difficoltà. Dal pacco alimentare all'appagamento di una bolletta, sono più di 500 le persone in difficoltà che hanno bussato alla porta della Croce Rossa di Arezzo per chiedere un aiuto, una fotografia senza dubbio allarmante che riguarda anche i più piccoli. Sono famiglie che prima si trovavano in difficoltà, ora si trovano in difficoltà ancora più accentuate dovute ai rincari generalizzati che ci sono stati della normale gestione della vita di una famiglia. Quali sono le nuove emergenze, generi alimentari e bollette? Generi alimentari, bollette, a volte anche vestiario. Noi cerchiamo di supportare per quello che possiamo tutte le famiglie che si rivolgono a noi attraverso i servizi sociali del Comune di Arezzo. E così parla di famiglie, dai vostri dati sono circa 500 le persone che hanno bussato alla vostra porta, il 10% di questi sono minori, sono giovanissimi, anche loro ovviamente in difficoltà. Sono minori fino all'età adolescenziale, a volte hanno difficoltà anche per avere il corredo scolastico per il primo giorno di scuola. In questo caso voi potete dare sicuramente una mano? Sì, anche quest'anno abbiamo fatto una raccolta con alcuni punti vendita qui della città di materiale scolastico e l'abbiamo devoluto interamente ai bambini che si dovevano apprestare a fare il loro primo giorno di scuola.